Il gioco che andrò a registrare oggi è un gioco di attività. Il primo livello è semplice, possiamo dire che è semplice, livello 2. Ho preso già due circuiti senza club, c'è tutta stella rinitta. Il gioco che andrò a registrare oggi è semplice, non è semplice. Il gioco che andrò a registrare oggi è semplice, non è semplice. Il gioco che andrò a registrare oggi è semplice, non è semplice, non è semplice, non è semplice. È semplice, non è semplice, non è semplice. Il gioco che andrò a registrare oggi è semplice, non è semplice, non è semplice. Non vado più avanti perché troverò circuiti che stanno con più curve, quindi mi fermo a livello 7. Vabbè, se vi è piaciuto questo gioco mettete i miei video sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti e attivate la famosa campanellina per ricevere i nuovi video. E un bacione a tutti i miei fan che continuano a seguirmi su YouTube. A prossimo video, raga!